Ciao a tutti, ciao a tutti ragazzi, buona vista dal vostro Hector Elio della Peña Valbuena e Spindosa de Santiago de Compostelle in Spagnol Buona a tutti ragazzi, allegria e benvenuti a un nuovissimo video e qui volevo parlarvi di Atalanta e Real Madrid ma prima analizziamo la prestazione della Lazio purtroppo abbiamo giocato un po' male, ci siamo lasciati prendere dalle ripartenze del Bayern Monaco hanno ruppato palla, hanno segnato, però sono stati più forti, ci hanno surclassato anche se Correa ha dato una fiducia e secondo me ce la giocheremo a ritorno tre golle non sarà facile farli ma ci proveremo, forza ragazzi, proseguiamo Atalanta e Real Madrid, Gollini, Toloi, Romero, Jim City, Mele, Derun, Freuler, Gosens e Pessina, Ilicic e Zapata Courtois, Vasquez, Varane, Nacho, Mendy, Cross, Casemiro, Modric, Asensio, Vinicius Junior e Dias e Spagnol e qua dico 1x, dai 2 a 1 ho 2 a 2 Ilicic e Zapata, Vinicius Junior o Pessina, Gosens, Dias e Asensio Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi, a presto al vostro Ectorelio della Pegna Valbuene Spindosa di Santiago de Compostelli, spegno A tutti ragazzi allegria, vi saluto e vi ringrazio Sempre e comunque, forza Lazio Bella a tutti, belli e brutti A presto e mi raccomando, ti fate per le italiane Un Champions, buona prima